Come da tempo annunciato, oggi, primo agosto, il Papa a noi nato, nuovo arcivescovo dell'Aquila, Monsignor Antonio D'Angelo, finora arcivescovo coauditore della medesima Arcidiocesi. Monsignor D'Angelo prende da subito il posto del Cardinale Giuseppe Petrocchi, lo riferisce il bollettino della Sala Stampa Vaticana. E' proprio su invito del nuovo arcivescovo Monsignor D'Angelo, in ogni caso sarà l'arcivescovo Petrocchi a presiedere il prossimo 28 agosto il rito di apertura della Porta Santa di Collemaggio come atto di saluto alla comunità aquilana.